Siamo bene, Icardi, Gagliardini, Emers buono, il palleggio, D'Ambro, bello il pallone dentro per Baldo che prova ad andare, salta Samoa, un colpo di tacco, attenzione, il tentativo murato, poi bravissimo Emers ad andare a chiudere sul tentativo di conclusione con Samir che apre le braccia dicendo ma attenzione, stiamo attenti, vediamo una palla che è rimasta lì che pallava, velenosissima e poi è stato fondamentale l'intervento di Emers che stiamo per andare a vedere, questo che va ad impattare, mette in movimento Gagliardini, palla per Emers, Emers smista per Asa, si fa vedere Icardi che detto con un 4-4-2 con quel tandem d'attacco adesso cambia ancora qualcosa di questa stagione quando poi ci saranno anche altre opzioni per esempio il ritorno di Miran, dalle vacanze dopo il mondiale, tra l'altro Miranda e Vessino, carica Icardi che la spizza per Emers che può allargarsi, corre Candreva sulla destra, attaccare come ripartire, palla per Emers, attenzione, al belga, palla per Icardi che perde, quest'oggi di solito si cerca sempre di... che deve metterla, mette in corsia per Icardi, bello dai e vai con il toro, colpo di tacco, Mauro... si andava dentro stazione, una grande parata di Emerson ma ci si esalta... per Emers, buono al controllo, Candreva Mezzo che fa una sorta di pivot classic, nati a 4 da Ambrosio, bello il controllo e l'anticipo, Emers, Lautar, buono per Gagliardini, la veloce per Icardi che può andare verso la porta, il portiere esce, colpo di tacco per Emers che va al tiro, la respinta da parte di Basham che salva... e non ho capito perché non ha tirato Mauro da lì, era in posizione di poter andare al tiro, poi Emers fa uno scivolone, spiegante, Skriniar, subito con le mani Samir per Emers che parte in dribbling, bravo, intervallo i massaggiatori per sistemare, con le mani Samir mette in movimento immediatamente Kian Emers, l'apertura per l'attacca Candreva, recupera D'Ambrosio, rimposta Emers, bravo per... Palla ben servita ad Emers, controllo, attaccato da Evans, scarica su posizione centrale, allora può servire un buon pallone per Emers, Emers prova a lanciare per Icardi, palla un po' lunga, Mauro arriva su questo pallone, adesso viene Zappa, avevamo detto che potrebbe essere il primo ad entrare in campo, Emers largo, cerca e trova collaborazione in Emers, il cross al centro è troppo alto per Icardi, ci regala però un bel calcio d'angolo, lo ringraziamo. Dagli è la prima quella palla, bravo Lautaro, per Emers potrebbe caricare il dentro, ancora per Lautaro, ci prova lui, Rappi, D'Ambrosio, Zappa, Gagliardini, bella questa giocata veloce, cerca di servirlo dietro, capisce tutto quanto Higan, poi Emers bravo. Grazie. Grazie. Grazie.